Tu da esperto di comunicazione riesci a darci qualche indicazione su come riconoscere una recensione veritiera da una recensione falsa? Soprattutto basta leggerle, nel senso che ci sono, vedete in rete, vari software, il buon senso prima di tutto. Quindi se ci sono parole troppo esagerate, quindi bellissimo o bruttissimo, normalmente è un tono un po' forzato. Un viaggiatore normale rimane più moderato, dice bello o brutto ma non è particolarmente cattivo o particolarmente buono. Non mette enfasi? Non mette troppa enfasi e poi mette dei singoli specifici dettagli, quindi magari dice che ha dormito al terzo piano, che la briochina non aveva la crema. Quindi è molto specifico su quello che dice, nomina qualche volta magari persone che sono lì, quindi è molto dettagliato sulla sua propria esperienza. L'altro elemento importante sono le foto, quindi se ci sono delle foto la recensione di solito è più forte e quindi in qualche modo è più difficile che sia sospetta. E poi appunto anche dal numero di recensioni che mette questa persona, una persona che non mette una foto generica, ha messo solo una recensione, è più facile che sia in qualche modo magari sospetta. Rispetto invece a persone, ci sono tante persone che frequentano TripAdvisor e ci mettono la propria faccia, quindi come su Facebook, e mettono magari tranquillamente addirittura la loro posta elettronica personale. Quindi in qualche modo vanno al di fuori dell'anonimato? Non hanno paura, ma c'è una faccia, assolutamente sì. E questa è la vera forza della Community TripAdvisor, cioè al di là di quello che vedete l'anonimato è un falso problema, perché si può comunque decidere di fidarsi di una recensione o non fidarsi di una recensione, usare Facebook. Io posso usare Facebook per vedere con il profilo di Facebook chi ha messo la recensione, quindi non mi interessa avere recensioni di gente che non conosco, chiedo agli amici o agli amici degli amici. Il problema sono le recensioni false, perché in questo momento sono ancora una piccolissima quantità, però se non mostriamo in maniera forte una tolleranza a zero, il rischio è che il fenomeno possa crescere, quindi bisogna avere massima attenzione. Ecco, visto che siamo nel cortile di Palazzo Granieri della Rocca che ospita il Circolo dei Lettori, ti faccio questa domanda un po' particolare. Secondo te Bruce Chatwin l'avrebbe usato o no TripAdvisor? Ma io penso che se avesse capito la potenza dello strumento, credo in qualche modo di sì. Quindi ci sarebbe stata recensioni d'autore? Questo è un bel film, non è una battuta al di là della risposta, credo che ci sia spazio proprio per recensioni di un certo livello, perché comunque rispetto alla massa tu attraverso anche TripAdvisor puoi vedere non solo, ripeto, gli alberghi e i ristoranti, ma quello che interessa a te. Quindi io cerco la recensione sulla galleria d'arte, sul vino, sulla cioccolata, su trend, tipologie di viaggio. E creo, se vogliamo, una mia community. Ci sono i forum, quindi io posso chiedere fuori dalla solita recensione di TripAdvisor informazioni su un determinato autore, su una determinata galleria. Quindi è un po' un turismo sempre più personalizzato. È il turismo per me, centrato sulle mie esigenze di viaggiatore e non, come al solito, come ero abituati, la solita brochure, dove la galleria è sempre perfetta, è tutto perfetto, è come le Maldive, no? Se vogliamo, io faccio un esempio delle Maldive, amo le Maldive, però non riesco mai a trovare una brochure dove ci siano i problemi di quella isola, i muretti non ci sono mai. Invece adesso con TripAdvisor incominciamo a far sapere il bello e il brutto di Internet. Bene.